Ieri era ancora a Monaco e oggi è sulla Costa Azzurra. Scommetto che è una bruna. Al mattino piogge e rovesci su quasi tutto il nord e sulla Versilia. Qualche temporale su Trentino Alto Adige, Basso Piemonte e Riviera di Ponente. Nubi su Toscana, Umbria, rilievi marchigiani e nord Sardegna. Sereno sulle restanti regioni. Al pomeriggio temporali su Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria e Versilia. Rovecci sul resto del nord e rilievi umbro marchigiani. Nubi su Toscana, Umbria, Vitterbese e Sardegna. Maestrale su Ovest Sardegna, Scirocco sul Medio Alto Terreno e Adriatico. Temperatura massima in calo al nord Toscana e Sardegna. Dati servizio meteo aeronautica, elaborazioni e grafica. Per la sicurezza della vostra casa e delle cose più preziose, pensateci in tempo. GT Casa Alarm, la sicurezza che cercate. Pensa, progetta, realizza. Costruisci il tuo mondo con punto legno. I negozi del fai da te, in tutta Italia. Arrivederci a tra poco. Vivi e Immobiliare realizza i tuoi sogni, qui in Sardegna, a pochi chilometri dall'aeroporto Costa Smeralda e dal porto di Olvio. In posizioni panoramiche, a pochi passi dal mare, appartamenti a partire da 99 milioni, pagabili con comode dilazioni e mutuo fondiario fino al 70%. Telefonate subito allo 039 39 32. I nostri funzionari sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Bastano solo 2 milioni per preannotare la casa dei vostri sogni. Vivi e Immobiliare, dove la felicità è di casa. Fermi tutti, questa è una rapina! Dammi tutto quello che hai lì! Spizzico, spizzico, il fast food, non è tutto il very good! Spizzico, molto fast, very good! È vero che l'elettronica miniaturizza le cose, ma prende sempre più posto nella nostra vita, a volte troppo. 1000 MHz, il portacomputer attrezzato di Foppa Pedretti, dà all'elettronica il giusto spazio nella vostra vita. Cani, 128 pagine di pura cinofilia. In questo numero, dossier ZTP, prove da duri, opinioni di razza, il futuro del pastore tedesco, a scuola di tartufi. Cani, dal semplice amico di Fido, ai professionisti della cinofilia, la rivista più fedele che c'è. Editoriale Olimpia, la cultura del tempo libero. Tata, lo sai che in cucina sei un genio? Sì. Lo sai che nessuno cucina meglio di te? Sì. Lo sai che non potremmo vivere senza i tuoi piatti? Sì. Ci dici il tuo segreto? No. Star, il tuo segreto in cucina. Metti anche tu la bestia di andata, e ci unirò al comandante. Altissime, purissime, levissime. Eccoci a voi per un saluto. Con Punto Legno e Bosch, costruisci il tuo mondo. Ciao, sono Albertino. È uscita DJ Parade, la compilation dell'estate. Mixata da Fargetta e prezioso. DJ Parade estate 2000. Doppia, a prezzo speciale. In tutti i negozi di dischi.